Allora, ma che devo dire? Mi sono scordata. Allora, devi dire dieci città dell'Europa, però per ogni stato ne puoi dire massimo una. Quindi l'Italia che non vale puoi dire Milano, poi non puoi dire Roma. Hai già detto Milano. Certo, ma certo. Allora, quanti mi devo dare dieci? Dieci. Allora, l'Italia non vale, mi hai detto. Allora, Parigi. Ma poi la cosa è bella è che non mi ricordo molto quelli che ha detto Simone. Simone è andato in Bulgaria, in Albania, in Romania, in Slovenia. Allora, va, Tirana. Ho detto Parigi, poi. Lisbona. Minchia Clea, a chi è? Siamo arrivato? Siamo a tre. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi ragiono, ci sto. Allora, vediamo un po'. Posso dire, per esempio, che città? Minchia Clea. Minchia Clea, veramente. Ragazzi, ti giuro, non mi ricordo, non mi ricordo. Dov'è che hai fatto Ex on the Beach? Andalusia. È una regione, non è una città. Ibiza. Ah, ok, vabbè. Allora, Ibiza. Fa parte sempre, eh? Non è una città, Ibiza. Cioè, è un paese. Allora, vediamo un po'. Poi, poi, che c'è stato? Sofia, perché ci devo andare con mia sorella? E poi, poi, che c'è stato? Praticamente, ha detto, Lisbona, perché ci è andata. Sì! Tirana, perché, perché albanese. Sofia, perché ci doveva andare. Parigi, perché se non sei Parigi, veramente, sei messo nessuna. Vabbè, cinque, vai. Poi, poi che ho detto, l'ho detto adesso? Mosca. Mosca. Cinque. Stama a sei, io cinque. Sei. Poi, poi. Quattro, me ne mancano? Sì. Ok. Poi ci sta. Hong Kong. Non è dell'Europa. Ah, ok. E poi... Hong Kong è, come dire, Spagna. Mi ero dimenticata l'Hong Kong. Ok. Ma non mi ricordo quale fanno parte dell'Europa. Dimmi, dimmi cose, io te le dico. Allora, ti dico uno Stato, dai. Allora, se vuoi ti posso aiutare. Non so, dimmi la capitale della Grecia. La Grecia? Bellissima domanda. Dai, la storia, gli spartani. Guarda, non me la ricordo, posso dire, Santorini? Non è una città. Non è una città. Che cazzo è, Santorini? E sono paesi... Ateni, Ateni. Sette, vai. Poi, poi. Quanti ne mancano, donna? Tre. Troppo, dieci, però. Tre. Ok. Fammi pensare. Che c'è sta? Montenegro? È come dire Italia. Ah, ok. Montenegro? No perché lo sai, ma perché è l'amaro Montenegro. Dammi una mano, dimmene in alto, dimmene in alto. Fammi un sorriso, fammi un sorriso. Ok. Ti posso dire l'Olanda, Paesi Bassi. L'Olanda, Amsterdam. Otto. Poi che città? Poi ti posso dire, andiamo un po', cosa posso dirti uno? Svizzera, ma non so se sei la città della Svizzera. La Svizzera c'è. In Svizzera cosa c'è? C'è Svizzera. Città con la zeta. Zurigo. Ne mancano due. No, basta. Una, una, non ne manca una. Allora, te la faccio facile. Ah, l'Inghilterra. Londra. Eh, Londra, dai, Londra. Dai, sono fatta. Dopo 27 minuti, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Dai, che stronti. Vediamo se hai imparato, perché io voglio che il nome donario serva per imparare. Vai. Dimmi, chi è? No, non ce la faccio. Chi è? Ieri ti ho chiesto il pilota della Ferrari, come si chiama? Mannaggia la mano! Ti ho chiesto ieri? Allora, mi hai chiesto ieri? Ma io ho, come ti dice, purtroppo, quando sbaglio non imparo mai. Purtroppo ho questo difetto. Allora, iniziale... V. 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 Vergine. 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 Non è l'oroscopo. Non è vergine. V. Se no, quell'altro... Vergin. Quell'altro comincia con la L. Che si chiama... Le clarc. Le clarc sono le scarpe. No Dani, non puoi mettere a dura prova il mio sapere, per favore. Leclerc, è giusto? Leclerc. No, non è l'altro. Leclerc. Leclerc. E l'altro è? Ah beh, io ti sarò vicino, vuoi ricordarlo? Sì. E l'altro è? Vettel? Vettel. Vettel, con la L. Vettel. Vettel, l'ho detto. Ieri, ieri mi hai detto Bertel. Cioè, il detto, senza di poter. No, Bertel, non so chi è. Bertel. Oddio, regalo, che ignoranza. Madonna, io ce la faccio. Ti posso fare quest'altra domanda? Eh. Sempre sexy, se vuoi, perché ce l'ho a forza di mano, questa. Vai. Parlavamo di punto G. Sì. E la domanda era, il punto G, due risposte, perché la terza era se fosse un supermercato. Perché è punto G. Ma qua c'ero, che ce l'hanno tutte. E tutte le sai. Eh. Grazie. 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 Grazie.